Eccoci di nuovo in studio, parliamo di Green Economy, di tecnologia tutta italiana, una tecnologia italiana che un'azienda friulana di Udine esporta addirittura in Cina, dove a differenza di quello che si può pensare sta crescendo l'attenzione per l'ambiente e anche per il riciclo della plastica. Perché questa anticipazione, perché qui con me questa mattina c'è Andrea Strizzolo, buongiorno e benvenuto, questo imprenditore friulano che insegna ai cinesi, adesso io sintetizzo, come riciclare la plastica? Beh, il riciclo della plastica è un lungo percorso, ci sono già anni di attività svolte in questo settore, dove con una buona raccolta differenziata la plastica viene riutilizzata. Quello che noi facciamo è riutilizzare anche le plastiche non omogenee, perché per riutilizzare la plastica bisogna suddividerle con metodi di separazione automatica o manuale, in modo tale da portare i polimeri dello stesso tipo e poi riglanulare, rimettere in circolo le plastiche omogenee. Tutte le plastiche omogenee, che sono diciamo oltre il 50%, che sono i sacchetti delle patatine, per dire che hanno una composizione multistrato, di più tipologie di plastica o con degli strati di alluminio per la protezione degli alimenti, tutte quelle plastiche sono destinate allo smaltimento. Non sono riutilizzabili così per la loro composizione nei processi tradizionali di stampaggio o di riutilizzo della plastica. Non sarebbe quindi il caso di evitare queste plastiche eterogenee negli imballaggi e passare magari a imballaggi riciclabili, totalmente riciclabili? Laddove è possibile sì, però per mantenere gli alimenti necessita fare un tipo di imballaggio che riesca a conservare l'alimento, quindi a proteso dalla luce, dalle intemperie. E quindi il fatto di consumare meno plastica è un fatto culturale. Se però pensiamo che da 60 anni a questa parte la plastica ha avuto un consumo esponenziale, oggi siamo arrivati a 350 milioni di tonnellate immesse al consumo a livello globale, a livello mondiale, e viene riutilizzato il 15-20% solo. Quindi che vuol dire in mari di plastica? Anche in mari di plastica. Tutto il resto, una parte è riutilizzabile perché la separano in modo omogeneo e torna nel ciclo di produzione. L'altra parte, che è un quantitativo enorme, è destinato allo smaltimento. E smaltimento ma che cosa significa? Che lo accumuliamo? Lo smaltimento significa che se non è utilizzabile o lo mettiamo sotto terra o lo bruciamo. Però noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo studiato la possibilità di riutilizzare anche le plastiche miste, quelle che non sono riutilizzabili. Quindi evitare la discarica, evitare l'inceneritore. Laddove è possibile. Ed evitare anche che tutta questa plastica arrivi in mare. Arrivi in mare. Cosa avete inventato? Ma è stato così inizialmente una scommessa, un gioco, un'idea che a ogni imprenditore può capitare. Poi da lì a trasformarlo in realtà è un lungo percorso di ricerca, di studio, tenendo in considerazione che nessuno al mondo ha mai fatto le cose che noi abbiamo fatto e non abbiamo potuto avere aiuto da nessun tecnologo, da nessun ente di ricerca, da nessuno specialista, perché quando andavamo a chiedere come potevamo sviluppare la nostra idea ci dicevano tutti lascia stare perché le plastiche miste sono chimicamente incompatibili fra di loro e conseguentemente non potrai ottenere nessun risultato. Noi siamo partiti da un'idea semplice, guardando l'effetto del conglomerato cementizio, del conglomerato bituminoso, del conglomerato roccioso. Cioè i mattoni. I mattoni, il cemento, il calcestruzzo, che è quello che viene utilizzato per realizzare le opere stradali. Quello praticamente rimane unito, c'è un legante, che è il cemento, che unisce la ghiaia e la sabbia. Quindi non ha nessuna reazione chimica, la ghiaia con la sabbia, se non quella del cemento che ingloba questi materiali inerti e rende forte il calcestruzzo, perché se togliamo gli inerti il cemento da solo non ha nessuna resistenza. La nostra scommessa è stata quella perché anche la plastica non possiamo ragionare non solo in termini di polimero, quindi di fuso plastico, ma di conglomerato plastico, ovvero un legante che possa inglobare le impurità che vengono considerate inerti, ovvero quelle plastiche che non fondono fra di loro, e vedere il risultato di questo conglomerato plastico iniettato all'interno di uno stampo per la realizzazione di un manufatto, di un oggetto. Nel nostro caso abbiamo fatto dei bancali, dei pallet, che potrebbero andare a sostituire i pallet di legno. Il risultato è stato sorprendente, nel senso... Quindi un riutilizzo di una plastica che era destinata allo smaltimento. Destinata allo smaltimento. Sotto forma di pallet. Sotto forma di pallet. Quindi nella sostanza con queste plastiche destinate allo smaltimento riusciamo a fare dei manufatti di largo consumo industriale, perché stiamo parlando di milioni e milioni di pallet che oggi vengono utilizzati in legno, e quindi con queste plastiche sottraiamo il consumo di risorse naturali come il legno a favore di una risorsa secondaria come la plastica, tanto più se questa plastica è destinata allo smaltimento, quindi a generare un problema ambientale. Ma solo il pallet può essere l'impiego o è stato il primo passo di un impiego che può essere allargato? E quindi ecco che dal 15% possiamo andare a riattingere un 85% di plastica da riutilizzare, perché poi lei ci sta dicendo, noi siamo così ligi a fare la raccolta differenziata, e quando buttiamo nella plastica pensiamo che tutta la plastica venga riciclata. Ora ci sta dicendo che invece solo il 15% di questo lavoro ha un valore totalmente ecologico, invece con questa tecnologia che avete inventato, ma questa colla, questo collante che voi inserite, che cos'è? Che rivitalizza la plastica? È il tipo di plastica, la famiglia delle poliolefine, quindi la tipologia di plastica che è maggiormente utilizzata nel mondo per le produzioni, soprattutto per gli imballaggi. Il 50% delle plastiche immesse al consumo sono della famiglia delle poliolefine. In ambito casalingo, urbano, tutti i prodotti destinati ad uso domestico sono generalmente fatti da questa plastica, dalla famiglia delle poliolefine. Quindi se noi svuotiamo un cassonetto della raccolta differenziata della plastica urbana, il 70% di quello che troviamo all'interno è plastica derivante dalla famiglia delle poliolefine. Quindi noi potremo prendere tutto il cassonetto, macinare indistintamente tutto il contenuto nella sua forma così com'è, anche tenendo il 15-20% di altre plastiche che non sono compatibili con la famiglia delle poliolefine, facciamo tutto un mix, quindi un conglomerato, che va bene per produrre un manufatto. Quindi si evitano passaggi di selezione, si evitano tutta una serie di costi che poi si aggiungono nel rendere competitivo. Cioè un riutilizzo diretto sostanzialmente. Un riutilizzo diretto con determinati processi di trasformazione, da rifiuto a prodotto, nel rispetto insomma delle normative vigenti, però nella sostanza riusciamo ad ottenere un manufatto. Il manufatto che otteniamo poi a sua volta può essere riciclato nello stesso processo, quindi non genera problemi, perché è un ciclo chiuso, quindi l'economia circolare mi alimento di una materia seconda, non utilizzo risorse naturali, il processo non ha emissioni in atmosfera, non utilizza acqua o non genera rifiuti e genera un prodotto ecocompattibile proprio perché è riutilizzabile nello stesso processo. Ecco, qual è l'elemento? Prima mi parlava di un collante, no? Questo collante come fa a rigenerare questo tipo di plastica? Il collante è elegante perché la poliolefine fondano a una temperatura più bassa rispetto a qualunque tipo di plastica. Quindi è un processo meccanico? È un processo, diciamo, questa plastica viene riscaldata, quindi non fusa, quindi non genera fumo perché non ha combustione, viene solo ramollita al punto tale che possa in qualche modo, attraverso dei processi meccanici di un certo tipo, essere miscelato facendo inglobare all'interno tutte le componenti che noi consideriamo inerti che non fondono. e a livello tecnologico, a livello oggi di stampaggio tradizionale delle materie plastiche, qualunque impurità presente all'interno di un polimero è considerato uno scarto, quindi non può essere utilizzato per produrre qualunque tipo di manufatto in plastica. Per noi non è più uno scarto, quindi le impurità sono gli inerti come accade nel calcestruzzo, nel bitume, nell'asfalto, sono gli inerti che generano prodotto, che danno forza e resistenza a prodotto. E la Cina? Perché sai, il tempo scorre, è interessante. La Cina è un progetto affascinante che ci ha colpito molto perché noi consideravamo, abbiamo visitato, abbiamo fatto più visite in Cina, consideravamo la Cina un paese che è fortemente inquinante, così come lo è stato. Da dieci anni a questa parte hanno fatto delle leggi molto puntuali per l'economia circolare, che hanno portato ad un blocco dell'importazione dei rifiuti plastici, non solo, ma anche della carta a tutto il mondo. Quindi significa che queste materie generate dal mondo non riutilizzabili in Europa o negli Stati Uniti, in altri paesi, finivano tutti in Cina per essere riutilizzate in Cina. Il blocco della Cina dal 1 gennaio 2018 ha generato grandi problemi nei paesi dove non sanno cosa farsene di questa plastica al di fuori della Cina. e hanno iniziato a fare un processo di recupero dei rifiuti, quindi hanno imposto alle aziende di non produrre rifiuti, ma di produrre delle materie riutilizzabili. E oggi stanno acquistando tecnologie nel mondo per fare l'economia circolare, ovvero completare i cicli di produzione e riutilizzare tutte le materie. E quindi voi siete assolutamente la ciliegina sulla torta, la richiesta, quello che serve, la tecnologia dell'economia circolare che la Cina richiede? Sì, loro hanno, il nostro rapporto è stato un progetto che è stato approvato dal governo cinese con l'imprenditore che poi è stato finanziato a livello cinese. Loro nel nostro settore, quindi nel settore del palle, della produzione di questo prodotto, hanno fatto di vieto, di utilizzo del palle di legno a favore del palle fatto con la plastica riciclata, e quindi hanno generato un mercato enorme. Voi in Cina esportate il manufatto o esportate la tecnologia? Cioè che tipo di apporto, in quanti siti state lavorando in Cina? Dunque, noi abbiamo esportato, abbiamo dato l'esclusiva per il mercato asiatico al nostro partner cinese. Abbiamo fatto una joint venture con loro per sviluppare know-how, insieme. Salvaguardando il Made in Italy, a cui ci teniamo molto, e il Made in Frioli, a cui ci teniamo molto da tutelare, però è un progetto comune. Quindi è un progetto che insieme, anche perché comunque è un progetto molto oneroso. Lei mi sta dicendo che l'idea l'avete messa voi, però se non c'era un finanziatore cinese era difficile da sviluppare. È dovuto arrivare in Cina o la Cina in quel momento aveva la sensibilità giusta per dare forza al suo progetto? Non è un finanziatore, è un cliente. È diverso, perché noi ci abbiamo impiegato vent'anni con risorse nostre, con tanta difficoltà. Siamo un'azienda microscopica, siamo un granellino di sabbia. Ma un cliente italiano o un cliente europeo? Non hanno ancora capito la potenzialità del vostro prodotto? Sì, lo ha capito, però qui è diverso, perché non è coinvolto un cliente, un'azienda, è coinvolto un governo. Quindi loro hanno fatto, in termini generali, la politica del recupero. Sono più avanti di noi, insomma, nella salvaguardia dell'ambiente. Io credo che sono più avanti di noi, sono più lungimiranti, nel senso che fanno programmi a medio e lungo termine. Loro che cosa fanno? Prima hanno fatto il divieto, si sono prima alimentati dai rifiuti dell'Europa, quindi di quelle cose che l'Europa, il mondo, poteva utilizzare e non ha utilizzato e non ha sviluppato tecnologie per utilizzare. Poi la Cina ha detto basta e va nel mondo ad acquisire le tecnologie per utilizzare quei tipi di rifiuti che il mondo non ha voluto riutilizzare. Quando le avrà sviluppate a livello ingegneristico, tecnologico, andrà nel mondo a risolvere i problemi. Questo lo sarà. Però c'è anche il Made in Friuli. C'è anche il Made in Friuli, che è un granellino di sabbia nel sistema, però ci siamo. E c'è il Nohau che nasce. C'è il Nohau che rigorosamente lo terremo italiano, sicuramente. Orgoglio nazionale. Oltre ai pallet, siamo in chiusura. Quali altri manufatti lei prevede che si potranno sviluppare? Il pallet è un prodotto tecnico che è il prodotto in plastica che riteniamo più difficile che si possa fare, perché è soggetto alle normative sui carichi sospesi, trasporta le merci. Quindi la resistenza. Deve resistere nel tempo. Però potrebbe essere una plastica resistente di altri mille utilizzi? Conseguentemente si possono fare tanti prodotti che possono andare a sostituire altri materiali nel settore dell'edilizia e comunque qualunque cosa, perché viene generato, è modellato attraverso uno stampo e quindi basta sviluppare la fantasia. Io ringrazio Andrea Strizzolo. Praticamente è una nuova tecnologia, una nuova frontiera della green economy. Imprenditore orgogliosamente friulano. Ringrazio voi per averci seguito anche questa mattina nel nostro viaggio alla scoperta di tutto quello che mette a disposizione il nostro territorio e sono davvero tante interessanti idee. Grazie, arrivederci. Grazie.